Musica La prima parte me mandò, la seconda parte me mandò, perché mi è scasso, però io non ho incontrò, la prima parte me mandò, perché mi è scasso, Musica Deve essere poveri in questo mondo, però io non lo credo Deve essere poveri in questo mondo, ma non lo credo Deve essere poveri in questo mondo, ma non lo credo Deve essere poveri in questo mondo, ma non lo credo Deve essere poveri in questo mondo, ma non lo credo Deve essere poveri in questo mondo, ma non lo credo